Fredrik Fredrik si incunia e va a realizzare in entrata sono 10 i suoi punti e il migliore è a Rantoni Boselli funge da Premier serve Premier che va al tiro da 3 punti è corto, rimbalzo di Meneghin che va al tiro sbaglia ancora poi Gracis recupera la palla per la Scavolini va in contropiede insieme a Fredrik che conclude evitando Boselli Boselli Premier Meneghin scena a Carroll in campo per la Simac mentre la Scavolini va ancora in contropiede con Fredrik che vola a depositare in canestro il Premier uno più uno per lui sbaglia il primo tentativo rimbalzo di Gracis Fredrik che si proietta in contropiede la schiacciata di Tillis Boselli al tiro dall'angolo rimbalzo di Fredrik contropiede per Tillis grande affone della Scavolini bella palla di Fredrik per Tillis Gracis per Fredrik Sincuni a Fredrik va a segno Fredrik ancora a segno a Fredrik 22 punti per lui giocati due minuti e cinque secondi del secondo tempo perde palla Meneghin Zampolini la recupera e lancia Fredrik in contropiede 24 punti di Fredrik massimo vantaggio per i pesaresi 73 a 62 anticipa Magnifico su Carroll le va in contropiede insieme a Fredrik servito Fredrik 28 punti di Fredrik Silvester Magnifico poi va in entrata Gracis sbaglia la conclusione rimbalzo di Tillis che schiaccia l'oppressa ad Antoni servito ancora Zampolini Magnifico Tillis Silvester cerca lo spazio per andare al tiro riapre fuori per Gracis Tillis sospensione a segno 17 punti di Tillis 92 scavolini 81 Simak 8 minuti da giocare Scenera al tiro da fuori sbaglia la deviazione di Zampolini per Silvester ma non c'è contropiede per la scavolini Silvester in palleggio dà un'ottima palla a Tillis che si gira e schiaccia palleggio di Silvester va a liberarsi Gracis sulla destra palla dentro per Magnifico tutto solo si è liberato di Sceno ed è D'Antoni a Scene ancora D'Antoni Premier palla per Carroll stoppato da Tillis e poi recupera Silvester contropiede per la scavolini 3 contro 2 arriva Tillis a rimorchio e realizza 21 punti di Tillis 98 a 86 per la scavolini Scenera intercetta Tillis dà la palla a Gracis 5 minuti e 16 secondi da giocare 98 a 86 per la scavolini magnifico Tillis sospensione assegno 23 punti per lui 186 per la scavolini 5 minuti al termine Meneghin per Scene ancora Meneghin in frazione di 3 secondi di Carroll in palleggio Gracis magnifico Tillis in angolo finta Scene poi va al tiro appoggiato a tabellone 25 punti per lui grande partita di Darren Tillis davanti a Joe Barry Carroll che per tante volte aveva giocato quando giocava nella stessa squadra scambia con D'Antoni che serve Scene ancora D'Antoni perde la palla Silvester l'ha recuperata contropiede arresto e tiro di Silvester assegna 8 punti di Silvester Scavolini in palleggio serve poi Scene Meneghin si gira e tira è corto recupera la palla magnifico che riesce a servire Gracis contropiede della Scavolini 3 contro 2 Tillis e schiaccia 20 secondi Carroll rimbalzo di Zampolini Silvester palla a Magnifico che schiaccia 20 punti di Premier Magnifico in possesso di palla la cede a Gracis che serve subito Silvester 30 secondi al termine Magnifico Gracis Zampolini tiro da 3 punti assegna 14 punti di Zampolini 18 secondi al termine Scavolini 120 Simac 95